E questa è dedicata a tutti gli amici che sono qui oggi, che sono stati qui con noi, ad ascoltarci, a fare un po' di casino, ballare, a cantare insieme. Questa canzone con tutto il cuore è per voi, si chiama Serat November. Questa canzone ha permesso anche ad abbracciarsi, ad accoppiarsi. Questa canzone ha permesso anche ad abbracciarsi, ad accoppiarsi, ad accoppiarsi, ad accoppiarsi, a fare un po' di casino. Questa canzone vya è per voi assume, che vuol metre va COMEPAR. Questa c'è ragazzi data migrà, per Papa, è some' temas di cari, a riccharsi, ad accoppiarsi, ad accoppiarsi, ad accoppiarsi. e che stai a spiegare potremmo armi sposo e potremmo vincere adesso mi pensi a spiegare vincere la luna e un'altra cosa che stai e un sol brindadino che sarò fuso la sera da fura talos che mettono a spiegare o dal mondo si trupe un baracet ai vetto grisi ai piccoli fracisi o dal mondo e ai venti di rai e poi spera senti quanta minita di vincere la luna e poi vincere la luna e poi vincere la luna non starei non starei non starei la scena da parte e scurreli da un bel bucassio tu mi sei la figlia e un po' di più e prima regola e tutto più la sera da fura talos che mettono a spiegare grazie a tutti è stato bellissimo essere qui oggi noi siamo di la dì sono la venta ed intorno e mani alla fine migliore di cucchi io ho al basso gallo la batteria vengo la chitarra io ho il pionino cresce la voce io sono Kerry veramente grazie grazie di tutti siete fantastici se non volete potrei comunque darvi l'adesivo dove ci sono i nostri contatti e vedete suoniamo ancora si pensa ciao grazie la minese che non è reale è sempre una bella è una gran figata da l'EFBI è una forza 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 forza